Oddio che c'ha lì in amoleto? No, 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 questo qui è il mio D-Control Questo qui con un sistema di pompaggio Aiuta a diventare duro il mio pistolino Eh, interessante Sì, più giù, più giù, più giù Sotto l'ombelico non vado, un fatto di biontologia professionale Allora più forte, più forte Ah, sai che cosa c'è? E se tu di esprimere tutta la mia praturperanza Un, due, tre, ciao per quel che è Ma che c'hai in mezzo alle gambe? Una vongola Cosa? Ah, sì Mi dia sempre la comando No, questo no Mi dia immediatamente il telefono Io, mio, mio, mio Mi dia sempre la comando Mi dia questo stimmo Tante, beh Ogliela pazzo Ogliela pazzo Ogliela pazzo Ogliela pazzo Grazie a tutti